Bene ragazzi eccoci ancora qui per parlare della Juventus Under 23 e purtroppo anche oggi siamo qui a parlare di una sconfitta l'Arbissola passa 1-0 a Chiavari e la Juventus appunto viene fuori con altri 0 punti peccato perché con i recuperi che si erano visti nelle varie anticipi sembrava che la classifica cominciasse a sorridere e invece sta sconfitta rimette un po' di noia soprattutto perché l'Arbissola è una squadra quelle che io chiamo alla portata una delle battibili e però come dei polli siamo andati a perdere questa partita e adesso non è che si fa dura però adesso andando a vedere anche il calendario che ce l'ho qua la prossima partita la Juventus gioca in casa col Ponteder e sarà una partita a quel punto lì da non fallire c'è da dire che la Juventus in trasferta ancora non ha vinto una partita non ha vinto una partita e chiedo che piano piano cominci a diventare pesante questa cosa infatti la Juventus in trasferta è ancora a quota 0 punti e questo sicuramente non è una cosa che va molto bene prossima partita appunto di settimana prossima il 18 alle 2 dubito di riuscire a fare il video perché sarò via ma ci sarà Juventus Ponteder e lì credo che sarà una partita da dentro fuori assolutamente ragazzi poco da fare la Juventus ha già creato anche bene con l'Arbissola è stata una partita molto combattuta molto grintosa giocata a tratti anche alla pari però l'Arbissola ha soltanto meglio l'occasione che l'ha portata in vantaggio ed è finita così dunque Albissola batte Juventus under 23 1 a 0 a me non resta che salutarvi darvi appuntamento con i prossimi video ciao